Il libro è fondamento della nostra cultura, della nostra società e della nostra cultura sommessimale. Fare un festival del libro è una cosa importantissima e anche docchi sciottesca, per cui onora il merito. Dopodiché la partecipazione è meravigliosa. In effetti, è una città viva. Il spettacolo semplicemente è uno spettacolo legato alle immagini che si muovono e vivono, le immagini che nascono. E soprattutto è questo concetto del fare, del vedere fare, vedere che si sviluppa e nasce qualcosa. Questa è la potenza del vedere qualcosa che naturalmente nasce e si completa. È una sorta di libro gigantesco, un libro collettivo che anziché essere il solito libro che leggiamo da soli, in questo caso lo vediamo comporsi e raccontarsi tutti insieme. Un grande saluto alla festa del libro. Un bacio. Un bacio.